Ecco Emma, buona prima volta, partecipo, è stata la prof di italiano del Ferraris, la professoressa di Elisabetta Gazzillo, mi conosco, ha consigliato il racconto tramite il volantino. Nell'osturità del rifugio, hai già guardato il tuo racconto delle chi ti piace? Sì, ce l'ho visto, sei contenta, va bene, sei contenta? Non hai mai partecipato? Va bene, perfetto. Grazie.